Il destino di un comparto nei dati presentati questa mattina al Museo dell'Auto di Torino, la filiera automotive che soffre in questo 2024 in cui le previsioni indicano un calo produttivo di 280.000 autoveicoli rispetto all'anno scorso. I timori per ciò che accadrà. Nel 2024 si prospettano più ombre che luci. Volkswagen che prevede di chiudere tre stabilimenti chiaramente coinvolge molto il nostro paese. Noi siamo i primi fornitori nell'ambito automotive per la Germania. E Torino è la città, il Piemonte è la regione che maggiormente fattura rispetto a tutte le altre nell'ambito automotive. 713 imprese in regione e un fatturato di oltre 20 miliardi di euro, 56.000 in calo gli addetti. Sono in aumento le richieste di cassa integrazione. Le politiche dei Dazi non so a cosa potranno portare, sicuramente politiche attive del lavoro. Politiche che però hanno deciso un taglio drastico, meno 4,6 miliardi di euro al fondo automotive. Spero che si potrà in qualche modo rimediare almeno nell'immediato nella discussione parlamentare attivando almeno 500 milioni per il prossimo anno. E poi c'è la spada di Damocle del 2035, data a partire dalla quale non si potranno più vendere auto a motore termico. E ieri il gran rifiuto di John Elkan, presidente di Stellantis, che ha declinato l'invito della Commissione Attività Produttive di Montecitorio a dar conto della strategia di una casa automobilistica che da sola rappresenta più di un terzo del fatturato dell'indotto. Elkan non va in Parlamento, cosa vuol dire? Fosse trasparente e sincera non dovrebbe temere nulla. Tutto rinviato al 14 novembre col tavolo Stellantis convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.